Un convegno che rientra nelle attività programmate dalla quarta commissione speciale del Consiglio regionale che io presiedo e che tratta appunto di mobbing sui luoghi di lavoro e di lotta a tutte le forme di discriminazione. È un argomento di cui si parla ancora poco però i dati in nostro possesso ci fanno capire che vi sono elementi e motivi di preoccupazione in quanto nei diversi luoghi di lavoro in continuità noi andiamo a registrare il verificarsi di condizioni e di situazioni di questo tipo. Noi pensiamo che sia fondamentale un'azione preventiva di conoscenza del fenomeno di informazione e di sensibilizzazione sui comportamenti che si debbono tenere nei luoghi di lavoro e poi sugli atti e sui provvedimenti conseguenziali. Il nostro obiettivo in questa fase è proprio quello di mettere a confronto queste esperienze e queste professionalità per definire una piattaforma comune, un programma che in tempi medi ci porti poi anche alla presentazione auspicabilmente all'approvazione di un'apposita legge, una normativa specifica sul mobbing che ancora manca in regione Campania.